E what's up a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo ultimo video dell'anno. Ebbene, sembra impossibile, ma effettivamente è realtà che questo 2020 sia praticamente giunto alla sua fine. Io penso, ragazzi, che non mi dilungherò troppo, ma sicuramente quello, insomma, che voglio fare in questo video è comunque augurarvi una buona fine e un buon inizio. Per quanto comunque, ragazzi, ossia, lo sapete, è una persona purtroppo pessimista, realista, e quindi per quanto magari io non creda molto nel fatto che magari l'anno prossimo potrà essere migliore del precedente, e l'unica cosa che sicuramente posso provare a fare è sperare, magari, incrociando le dita, che questo 2021 possa regalarci qualcosa di meglio di quello che ci ha regalato questo 2020. Sappiamo tutti benissimo quanto quest'anno, ragazzi, sia stato un anno estremamente strano. Penso sia l'aggettivo forse più azzeccato quando ci si riferisce a questo 2020. È stato un anno veramente strano e anche, direi, alquanto sfortunato per tutti noi, ovviamente, perché sappiamo tutti benissimo, ragazzi, cosa ci ha portato questo 2020. e sembra veramente come se, ragazzi, si stesse raccontando una favola che non riguarda il nostro mondo e invece la dura realtà, perché sappiamo benissimo che la pandemia, ragazzi, di Covid-19 ha totalmente stravolto le nostre vite. Quindi non solo la vita di qualcun altro, ma veramente la vita di tutti noi. Quindi è stato un anno per assurdo della condivisione, tra molte virgolette, perché ci siamo ritrovati tutti quanti, ragazzi, a condividere questa condizione che ha stravolto totalmente le nostre esistenze. E chi mai, ragazzi, lo dicevo proprio qualche giorno fa, avrebbe potuto solo lontanamente immaginare che potesse succedere una cosa del genere, perché questi sono eventi che magari noi vediamo sempre come tanto lontani da noi, sia dal punto di vista temporale, sia anche dal punto di vista proprio dello spazio, tra virgolette, perché magari pensiamo che queste cose possano succedere sempre in paesi o in luoghi che comunque non ci riguardano. E invece quest'anno, ragazzi, ci ha ricordato che fondamentalmente comunque siamo sempre tutti molto più accomunati di quanto crediamo, nel senso che fondamentalmente, ragazzi, siamo tutti quanti sotto lo stesso cielo. Vuoi in un posto, vuoi in un altro, alla fin fine magari possiamo ritrovarci a condividere la stessa sorte, diciamo così. Quindi è un qualcosa che ha fatto sì che non ci distinguessimo più tanto, effettivamente, per assurdo. Quindi ci siamo ritrovati tutti a condividere, ragazzi, questa condizione che ci ha ricordato che comunque queste cose possono accadere, possono succedere, anche quando meno ce l'aspettiamo. Sono cose che possono accadere e cose che possono segnare le nostre vite. Infatti io credo che chiunque di noi, in un modo o nell'altro, ragazzi, ricorderà quest'anno, questo stranissimo 2020, in qualche modo appunto ha segnato la nostra vita. E quindi questo, io temo che quest'anno sarà ricordato solo ed unicamente per questo e per comunque magari tanti eventi che avranno un po' segnato le nostre vite. Io vi dirò, ragazzi, anche proprio personalmente parlando, quest'anno è stato un anno un pochettino turbolento, diciamo così, e quindi è strano, è strano, è strano davvero. È stato un anno strano, io non so. E come ognuno di voi vorrà definire quest'anno, ragazzi, magari sotto nei commenti potete scrivere qual è l'aggettivo che secondo voi descrive meglio questo 2020. Secondo me, cioè, l'aggettivo strano è abbastanza pertinente. Per il resto, ragazzi, vi dicevo appunto che questo è l'ultimo video dell'anno, quindi i gameplay riprenderanno, ragazzi, direttamente lunedì, proprio perché comunque adesso c'è la fine dell'anno di mezzo, diciamo così, quindi diciamo che mi prendo qualche giorno di pausa. E per il resto, come dicevo all'inizio video, comunque l'unica cosa che posso augurarmi, augurare ad ognuno di noi, che ovviamente il 2021 in arrivo possa essere in qualche modo un pochettino magari meno turbolento, diciamo, del 2020, per quanto comunque, ragazzi, ogni anno magari riserva sempre le sue piccole sorprese, incrociamo le dita comunque, ragazzi, sperando che appunto perlomeno non sia peggiore, al massimo, di questo 2020. Quest'anno, ragazzi, è stato strano anche proprio per queste feste, perché non abbiamo potuto festeggiarle, ovviamente, come abbiamo sempre fatto. Per esempio, questo 31, ragazzi, quindi sarebbe a dire domani sera io e Rodrigo saremo da soli a casa, ovviamente non possiamo andare dai nostri parenti, perché comunque alle 22 c'è il coprifuoco, quindi comunque non potremmo tornare a casa, o dovremmo restare a dormire chissà dove, ma comunque abbiamo sempre Robin, ragazzi, quindi non possiamo lasciarla da sola a troppo tempo, quindi varie vicissitudini ci impediscono, ovviamente, di andare a passare questo capodanno con altre persone, però va bene così, regà, che possiamo fare, quest'anno è andata così, ce lo ricorderemo anche per questo magari, per essere stati obbligati dalle circostanze comunque a cambiare un pochettino anche le nostre abitudini, però, vabbè, cerchiamo sempre di guardare il lato positivo, comunque siamo arrivati vivi anche alla fine di questo 2020, purtroppo molti non ce l'hanno fatta, proprio a causa, ragazzi, anche di questa tremenda situazione, ricordiamo anche tutte queste persone magari, e quindi stringiamoci ancora di più per darci questo, insomma, augurio di speranza, per quanto per me personalmente sia difficile, per questo 2021 in arrivo. Io vi auguro davvero, ragazzi, un buon capodanno, un buon proseguimento delle feste, che comunque appunto proseguiranno perlomeno fino al 6 gennaio, grazie come sempre anche per il supporto che in ogni caso mi avete sempre dimostrato, ragazzi, durante quest'anno, per quanto io sia stata assente anche per un po' di mesi, è stato bello comunque vedere una volta tornata che ci sono stati veramente molti di voi che mi hanno riaccolta a braccia aperte, come se comunque il tempo non fosse passato. Quindi grazie anche a voi, ragazzi, per aver reso comunque nonostante tutto quest'anno un po' migliore. Vi voglio bene, ragazzi. Buon anno.